Ultimamente ho analizzato, guardato, letto tanti dati in relazione all'andamento della zona euro, dei rapporti tra i paesi dell'Unione Europea e i dati fatti concreti che si sono verificati negli ultimi periodi sono eclatanti, quindi è arrivata l'ora di affrontare questo tema, perché sennò poi parliamo sempre delle stesse cose. E' importante farlo, perché dal mio punto di vista la crisi dell'euro e dell'Europa è dietro l'angolo, adesso lo vedrai, lo vedrai con i tuoi occhi, con fatti dati concreti. Non si tratta di capire se accadrà, ma si tratta di capire quando accadrà che questo tipo di euro, questo tipo di Europa salterà. Non si tratta di essere pro o contro euro, anche se è evidente che se ti fai un giro in strada e dici a qualcuno che l'entrata nell'euro ci ha rovinati, ti dice ovvio, annuisce, come annuisco anch'io, a livello economico è così. Poi ci sono tanti vantaggi per essere all'interno di questa zona euro, però non è che questi vantaggi li perderemo in futuro, nel viaggiare senza il passaporto, no, ci sarà molto probabilmente un euro 2, euro 1, euro 3 la vendetta, ci sarà una divisione dell'Unione Europea così come l'abbiamo vista, almeno questa è la mia ipotesi, nessun ritorno alla lira, ecco, si è inteso. L'obiettivo è sempre lo stesso ragazzi, per chi è nuovo all'interno di questo canale, per esempio partiamo subito analizzando quella che è la situazione delle banche in Europa, come sono messe banche italiane, europee, quindi l'obiettivo resta sempre capire che cosa sta accadendo per salvaguardare i nostri risparmi, i nostri interessi, in questo caso parliamo di patrimoniali, magari di prelievi forzosi, perché quello che può accadere data la situazione del debito pubblico in Italia non lo sappiamo, o meglio sappiamo che sarà un disastro, però ne lo specifico al momento. Non lo sappiamo. La prenderemo un po' a larga, quindi guarderemo un po', faremo un'analisi un po' macro, ok? Poi entreremo in aspetti micro, che sono gli aspetti che ci riguardano a casa nostra. Quindi partiamo, seguimi bene, perché andiamo a vedere un attimino cosa c'è sotto il tappeto. Per far bene questo lavoro, che dobbiamo fare? Dobbiamo seguire i soldi. Ed è ovvio che dobbiamo parlare di chi i soldi li crea, la BCE. La BCE in questi anni ha completamente ignorato le conseguenze economiche delle sue azioni. L'unica cosa che ha fatto, guardate che la Lagarde, che non è un economista, l'è stata messa lì non per caso. Come fai poi alla fine quando salta la baracca a prendertela con una donna, se sei un signore? Che ha fatto? Ha finanziato i stati membri, ha fatto esplodere l'inflazione all'interno dell'Unione Europea ed ha ignorato le conseguenze. Dopo il fallimento della Lehman, la BCE, in sostanza, rispetto ai regolamenti bancari, non ha cambiato nulla. La tabella, che più esperti avranno la possibilità di guardarsi con calma, analizzarla con calma, vi dimostra il livello di indebitamento delle banche di importanza, si dice, sistemica della zona euro. Cioè delle banche più grosse, diciamo così. La prima colonna, ma anche le altre comunque, ci parlano chiaramente e ci dicono chiaramente, per assumerla in breve, quanto sono indebitate queste banche in relazione al loro patrimonio. Queste sono le banche messe peggio, sia sempre la Dolce Bank, la Credit Agricola, c'è l'Unicredit, c'è la BNP Paribas, ma non sono le uniche. Perché magari la zona euro si può di fatto infiammare da un momento all'altro a causa dell'implosione di anche banche più piccoline. Non per forza banche sistemiche, che poi di conseguenza entreranno in crisi. Detto ciò, per gli appassionati che vogliono approfondire questo tema, potete andare indietro, guardare questa tabella, andarvi a fare delle ricerche e fare le vostre verifiche. Secondo, la spesa pubblica degli stati è aumentata. E che cose sono diminuite? Le entrate fiscali. In buona sostanza abbiamo stati spendaccioni che non riescono ad incassare. Quando parliamo di entrate fiscali vuol dire che spendono di più di quanto raccolgono in relazione alle tasse. La tabella, questa qui che stai per vedere, ti fa vedere appunto la spesa pubblica nell'ultimo anno dei principali stati membri dell'Unione Europea in rapporto al PIL. C'è chi ce l'ha più alto, c'è chi ce l'ha più basso, ovviamente noi siamo i primi della classe. E per darvi un termine di paragone, dentro vedete anche gli Stati Uniti, che non se la passano abbastanza bene, non se la passano per niente bene, ma che hanno un sistema, una banca centrale, che è gestita non come la Banca Centrale Europea. Ebbene, la prima problematica che l'Unione Europea dovrà affrontare in questi mesi è la trappola del debito pubblico. Cioè, se la BCE si troverà di fronte all'obiettivo, o meglio, la necessità di alzare i tassi di interesse, una nazione con un debito pubblico elevato, ad esempio come l'Italia, è una bomba ad orologeria. Cioè, questo cosa vuol dire? Che come la fa fa, la BCE intendo, la sbaglia. Perché? Se non alza i tassi di interesse, l'inflazione esplode. Se alza i tassi di interesse, mette sostanzialmente in crisi i paesi con un alto debito pubblico. Per parlare un attimo di livello dei prezzi, e quindi delle politiche della Banca Centrale Europea, basta osservare come esplosa, e qui vedete questa notizia d'Italia Oggi, l'inflazione in Germania. Ora, all'interno di questo articolo, che potete andare a trovare sul web, c'è scritto che ad ottobre i prezzi alla produzione della Germania sono saliti al 18,4% rispetto ad un anno fa. Cioè, l'inflazione galoppa, e tra pochi mesi non sarà più possibile contenerla in Europa. Le borse di tutto il mondo cosa faranno? Riconosceranno questo problema. E lì ci saranno problemi seri. O puniscono l'euro se la BCE non alza i tassi svalutandolo, cioè vale sempre meno, o puniranno l'euro se la BCE alza i tassi perché in gula frega, scusate, gli stati con un debito molto elevato. Siamo ad un angolo, o meglio, l'euro è in un angolo, insieme alla BCE. Questi dati ci dicono di fatto che alla fine l'euro salterà. O a causa della svalutazione monetaria dell'inflazione, o a causa del collasso economico. Perché se tu BCE inizi ad alzare i tassi, quando hai regalato soldi ad aziende finanziarie, non finanziarie, istituzioni finanziarie, scusate, non finanziarie, a destra e manca, a basso tasso di interesse, appena tu alzi i tassi di interesse ci sarà un collasso economico. Perché tutto questo sistema, vi ricordo, regge su una montagna di debiti. Una montagna di debiti che fanno paura. E quindi l'euro digitale che fine farà? Qui non si mette in discussione il digitale, il futuro delle valute. Ci siamo l'euro digitale. Anche perché, vi ricordo, all'interno di questo canale, negli anni scorsi ne abbiamo parlato, la banca centrale francese testa l'euro digitale da diversi anni. Cioè non è che ci sta lavorando solo la BCE, ma ci stanno lavorando anche le banche centrali dei vari stati nazionali. Quindi su questo argomento non cambia nulla. Si chiamerà euro, si chiamerà eurino, fiorino, cambia nulla. Il futuro della moneta è quello. Una moneta programmabile, a scadenza, nelle mani dei manipolatori di professione. E all'interno di questo contesto dobbiamo vedere cosa farà la Germania. La Germania è sempre stata molto cauta rispetto alla stampa di denaro. Sono quei paesi, tra cui c'è anche la Germania, sono i paesi del nord e d'Europa, che dicono no, fermi a dare soldi agli spendacioni italiani, spagnoli, portoghesi, francesi. Perché dovete sapere che l'Unione Europea è oramai sotto attacco a 360 gradi. Ad ovest lo è per la Brexit. Gli accordi, lo ripeto ancora una volta, tra Unione Europea e Regno Unito non sono ancora stati trovati. Perlomeno non per tutto. E sotto attacco da sud, con i paesi spendaccioni, i paesi deboli dell'Unione Europea, ripeto, Spagna, Portogallo, Francia, perché la Francia è in questa cerchia, qui Italia ovviamente, e i paesi del nord, dove le politiche fiscali, cioè politica fiscale comune, quando l'Olanda, la Svezia, la Polonia, l'Ungheria sentono parlare di politiche fiscali comuni, comuni insieme a chi? All'Italia, alla Francia, ma siete pazzi, dicono. Cioè qual è un altro mondo? L'Europa unita non esiste. Da un punto di vista di welfare, da un punto di vista fiscale, non esiste. Esisterà in futuro? Sì, ma non con quei paesi. La Germania ci sarà? Ne parliamo a breve. Poi non dimenticatevi la questione che è accaduta, una cosa incredibile, qualche mese fa. La Polonia, non so se lo sapete, la Polonia è stata multata dalla Corte di Giustizia Europea sotto pressione della Commissione Europea per un importo pari a un milione di euro al giorno di sanzione. Un milione di euro al giorno. Perché? Perché l'Unione Europea dice che la giustizia polacca non è indipendente. E lo Stato di fatto ne limita l'imparzialità dei giudici. Quindi, come capite, i problemi sono tanti. E stiamo parlando di un continente che non è, e non è mai stato, non è nato unito. Quindi non è che si sta trattando di qualcosa che è unito e si divide, no? Come le questioni che sono nate negli Stati Uniti con il Florida, la Florida dopo Trump. No, qui stiamo parlando che questi non sono mai stati uniti. Poi c'è da aggiungere che il vecchio continente, se ci pensate, è sfigato forte. Cioè siamo un continente di fatto, se non qualche cosettina, senza materie prime. E materie prime non intendo solamente il gas, il petrolio, qualcosettina. Non intendo solo sta roba qui. Cioè noi non abbiamo di materie prime proprio una mazza, manco a livello di chip, microchip per intenderci. Dipendiamo di fatto sempre dagli altri. Questi non sono problemi da poco, se ci pensate. I primi sono problemi eclatanti, i dati. Ma questi qui, in un mondo del futuro, non sono problemi da poco. Aspetti micro, iniziamo ad entrare un po' in casa nostra, quelli che conosciamo un po' più da vicino. Alcuni di voi, magari lì sarà sfuggita, o non ve la ricordate più, no? La frase che pronunciò Giuseppe Conte alla Germania quando si parlava dei famosi soldi dall'Unione Europea. Vi ricordate l'attesa in quella notte sul Recovery Fund? Altrimenti l'Unione Europea salta, se non ci sono sti soldi, se non si crea questo fondo. Cosa disse Giuseppe? Dietro l'impulso, dicono degli Stati Uniti, quella sera alla Merkel. Disse, o troviamo un accordo, o se no, facciamo da soli. Poi arrivò Mario, Mario Draghi, il Super Mario Boss. Draghi, è evidente, no? È noto che ce la raccontiamo ogni volta. È un uomo sostenuto da poteri politici, bancari e finanziari. E diciamo che c'è qualche sintonia, almeno del passato. Vogliamo riconoscerla tra Draghi e Macron rispetto alle loro relazioni con gli Stati Uniti? Ci hanno lavorato per grandi banche sistemiche degli Stati Uniti e non hanno ricoperto ruolini. Quindi molti dicono che l'Italia adesso lavora per la Francia e da capire poi la Francia per chi lavora. Altri dicono, no, guarda che ti sbagli, lavora direttamente per gli americani. Non cambia niente, ragazzi. Non ci perdiamo in queste piccole cose. E in questo contesto cosa rientra? L'accordo, che in parte è segreto, del Trattato del Quirinale. Che casualmente è stato firmato in questo periodo tra Francia e Italia. Non tra Francia, Italia e Germania, ad esempio. E non è un caso, no? Voi che dite? Noi, come al solito, siamo al centro del gioco. Perché l'Europa ci sta aspettando al barco. Qual è il barco? Il debito pubblico italiano. Cioè, adesso, dietro di noi, c'è la BCE che ci copre su tutto. Ma i conti pubblici italiani, se si smarca la BCE, saltano. I mercati lo sanno. Sono tranquilli, perché dietro c'è la BCE. Cioè, lo so che voi in un anno, due, vi siete dimenticati tutto, no? Lo spread di qua, di là. C'è la BCE, ma la BCE che fa? Continua a fare così? La Germania continuerà a fargli stampare tutta sta roba qui e far inculare i tedeschi con l'inflazione che arriva al 18,4% in un anno di aumento dei prezzi della produzione? Se segui il denaro, ci arrivi sempre, molto velocemente. Se lo conosci un po', eh. Poi se hai studiato solo letteratura, filosofia, italiana, sta roba qui, greco, latino, beh, dovresti un attimo darti una calmata. Ecco. Ma sto scherzando. Io, chi ha studiato latino e greco, lo rispetto. Il nostro debito pubblico, quelli che negli ultimi due anni non se ne parla più, no? Succede niente. Perché? Perché non sentite parlarne più? Perché c'è la BCE? Ma la BCE non può farlo. Ve l'ho spiegato nella prima parte del video. Che non può continuare a vita così. O ci strangola con i livelli di prezzi elevatissimi. I tedeschi non staranno a sto gioco. I tedeschi, i tedeschi tedeschi intendo, li vanno a prendere, sciolzo lì, compagnia cantante. Sono mica italiani, no? Come italiani. Ci organizziamo, ci stiamo organizzando un nuovo partito, ci stiamo organizzando un nuovo partito, i dal exit, vabbè, lasciamo stare. Si divertono, dai. Poi voglio ricordarvi un altro dato a casa nostra. Oggi il numero delle pensioni e pensioni pagate dallo Stato sono pari al numero di dipendenti. Ripeto, non è che si tratta di capire se salta l'euro e l'Europa. Si tratta di capire quando. Quando Draghi sarà al Quirinale? Vediamo. Alcuni iniziano a dire, i più attenti, che per Draghi c'è già un posto all'interno della nuova Unione Europea. Ci sta. Ecco, già questa soluzione ci sta un po' meglio. Però è da capire che il referente metteranno al Quirinale, al posto suo. Perché dico questo? Perché prima di pensare alla nuova Unione Europea, al nuovo euro fiorino, euro 2, euro 3, come le macchine, no? E c'è da far saltare il bubbone. E poi c'è da gestirlo. Qui stiamo parlando che entrerà in crisi il sistema bancario italiano. Te compri, non so se avete capito. Quindi prima di pensare al futuro, no? Ci sono un po' di varianti. E la prima variante, un'altra adesso te la dico. La prima variante è proprio capire cosa succede, chi lo gestisce, come viene gestita sta situazione, da chi? Da Lameloni, da Salvini, da Conte, da Letta? Ma sono dei gregari, stanno in panchina, fanno la comparsa. Sono dei portavoce. Cosa farà la Germania in questo contesto? Si crea di nuovo il suo marco super forte, più forte del nuovo euro? Beh, qualche informazione ce l'abbiamo. Non ne stiamo parlando tantissimo all'interno di questo canale ultimamente, perché siamo impegnati sempre a trattare gli stessi temi, di cui mi sarei anche stancato, perché tanto le previsioni le abbiamo già fatte, abbiamo azzeccate, fine. Gli avvisi anche, quindi non è che c'è molto da ancora commentare, lo faremo rispetto ai soliti temi di questi giorni. Cioè abbiamo parlato poco degli acquisti di oro fisico che la Germania ed altri paesi nel mondo stanno facendo comprando tonnellate e tonnellate di oro. Quindi tutto ci porta verso una riorganizzazione della zona euro. Allo stesso tempo ci siamo noi italiani, cioè non noi, io e te. Ora tutti parlano svenderemo l'Italia, tutte queste operazioni servono per svendere i gioielli italiani. Beh, questi, l'abbiamo capito, no? Li svenderanno, questi è certo. Sta roba qui è certa. Ma i poteri finanziari grossi e collegati, diciamo così, ad alcuni ambienti ci sono anche in Italia. E come se non ci sono? E quindi se si vuole assicurare un minimo, un minimo, poco a poco di prosperità futura a queste famiglie, alla propria gente, intesa come non gente italiana, noi, la loro gente, qualche mossa sarà fatta. Perché è ovvio che la povera gente in tutto questo marasma ci sta capendo già ben poco. E sicuramente verrà fregata, come al solito. Insomma, se vogliamo riassumerla velocemente, fare un'ipotesi, anche una battuta, è molto probabile che in futuro ci sarà un euro CFA e l'Italia sarà un gregario. In sostanza la Francia sostituirà l'Italia con i paesi africani. Ma c'è una seconda ipotesi, no? Da tenere o meglio delle reazioni, delle conseguenze che ci saranno. Cioè, come si comporteranno gli americani in tutto questo? Perché c'è questa variante. Cosa faranno in questo, in tutto questo contesto, gli USA, gli USA? Dal proposito, è sempre utile ricordarvi che da noi ci sono 100 basi militari statunitense, di cui 4-5 sono nucleari. E gli USA, da noi, hanno parcheggiati il più grande deposito militare che si trova al di fuori degli Stati Uniti, nel loro paese. Che farà l'America? Quello che sappiamo è che l'America, quando si muove all'estero, non c'è Biden o Trump, divisione che tenga. Fa i suoi interessi. In questi movimenti sono uniti e si muovono su una prospettiva unica. Cogliere di mezzo un'Europa che inizia a trattare con la Cina per creare il corridoio, no, Cina-Unione Europea, quello firmato da Giuseppi, e che parla, non parla, fa la doppia facciata con la Russia, non è comodo per gli Stati Uniti d'America. Avere degli eurini, un eurino, due, un eurino, uno, un fiorino, insomma, delle colonie qui nel vecchio continente, fa comodo. Un'Europa forte non fa comodo agli Stati Uniti d'America. Molti nel nostro paese, giusto per concludere, arriviamo alla conclusione, si stanno chiedendo come mai Mario Draghi, che ha creato il supergoverno, doveva arrivare qui con i superministri per fare super riforme, invece adesso calcolano gli spicci qua. Chi guadagnerà di più? Chi guadagnerà di meno? Chi ci rimette? Che doveva fare la riforma delle pensioni, no? La zavorra che ci troviamo sul gruppone da diversi anni. Che doveva preparare la spesa del piano nazionale nazionale di resilienza e bla bla bla. Insomma, tutte ste riforme, tutto sto supergoverno non si è visto. Se non qualche cosa, giusto per dire che qualcosa l'ha fatta, no? Non è contentino qua e là. Perché Super Mario Boss non è riuscito? Ma perché ragazzi? Perché è inutile! Mario Draghi non è venuto qui per fare ste robe qui. Chi segue un attimino gli aspetti politici ma non i bla 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 di facciata. Ma i fatti concreti, cioè legge tutti i giorni, i decreti legge che vengono rilasciati, le operazioni di riforma, le proposte, gli emendamenti, sa che stanno giochicchiando, stanno tirando a campare perché stanno aspettando una data fatidica che è la data delle elezioni del Presidente della Repubblica. È inutile sforzarsi, dice Super Mario. Tanto, non serve un cazzo. Inutile sforzarsi a cosa? A riformare l'Italia per salvare l'Unione Europea. Ha stretto la mano a Macron nel trattato del Quirinale quando lui è Presidente del Consiglio e ha una smania di salire al colle che Dio solo lo sa. Di lì, dall'alto della seggiola più alta del potere italiano è tutto più semplice. Meglio che stare in mezzo a sta mandria di pazzi a trattare con i sindacati, la Confindustria, Salvini, la Meloni, Mario Draghi, non tratta. È un banchiere. I banchieri non conoscono democrazia, ragazzi. Per lui il periodo è il periodo migliore. L'arco temporale, come vi ho già detto, 2022-2029. Un settennato meraviglioso. Cosa c'è di meglio? Questo è un breve riassunto, anche se breve non è stato questo video, però nei limiti di quello che può essere una comunicazione su YouTube ho cercato di raccontarvi con dettagli macro e micro la fine dell'Euro e soprattutto la fine delle sue istituzioni, così come le abbiamo conosciute fino ad oggi, che dal mio punto di vista non sopravviveranno e possiamo affermarlo sempre con maggiore certezza visti gli sviluppi degli ultimi tempi.